Conclusioni. Devo ringraziare questo Parlamento per l'impulso politico che anima tutto il piano. L'attenzione a ambiente, giovani, donne, mezzogiorno, che informa ogni intervento, è prima di tutto frutto della vostra azione. Sono certo che riusciremo ad attuare questo piano. Sono certo che l'onestà, l'intelligenza, il gusto del futuro prevarranno sulla corruzione, la stupidità e gli interessi costituiti. Questa certezza non è sconsiderato ottimismo, ma fiducia negli italiani, nel mio popolo, nella nostra capacità di lavorare insieme quando l'emergenza ci chiama alla solidarietà e alla responsabilità. È con la fiducia che questo appello allo spirito repubblicano verrà ascoltato e che si tradurrà nella costruzione del nostro futuro che presento oggi questo piano al Parlamento. Grazie. Così finisce il suo discorso alla Camera il presidente Draghi. Sarina, arrivo dal